Ci troviamo nel supermercato Sigma di Reggio Emilia, nel centro commerciale Quinzio, ed è il nuovo format di Sigma Realco per l'area di Reggio Emilia. Alle mie spalle potete vedere il reparto ortofrutta. Le caratteristiche principali di questo reparto sono alta qualità, nazionalità e stagionalità. Questo per garantire sempre la massima freschezza e la massima qualità per i nostri consumatori. Un settore che sta prendendo molto piede oggi è il settore biologico, che gestiamo con un prodotto a marchio, quindi Sigma, solo confezionato. Ci troviamo a Pianora, in provincia di Bologna, all'interno di Economy, che è il nostro nuovo format per quanto riguarda l'assortimento low cost. In questo momento ci troviamo all'interno del reparto ortofrutta, che è il reparto che accoglie la nostra clientela all'ingresso del negozio. Un assortimento che è molto legato alla qualità che troviamo anche all'interno dei nostri supermercati Sigma, a un prezzo conveniente. Qualche mese fa, dopo aver preso in gestione il punto vendita, abbiamo deciso di riproporre questo reparto nel suo assetto iniziale, ma con delle strutture diverse che fossero sicuramente più produttive per quanto riguarda l'esposizione e anche il controllo qualità, a cui come azienda teniamo particolarmente. Grazie. Grazie.